Dal celebre romanzo di Joseph Conrad, Terence Young, il geniale regista di tutti i film di James Bond, ha tratto quest'opera nuova, inconsueta, inquietante, spettacolare. L'avventuriero Un uomo che aveva fatto del mare la sua patria, della donna il morbido rifugio di attimi d'abbandono, del rischio la sua vita stessa. Implacabile, duro come la roccia. Solo uno come lui poteva portare a termine quella pazzesca missione. Nessuno è riuscito a forzare il blocco inglese da mesi. Arlette, metà donna e metà bambina. Vuoi vedere anche tu? No, volevo solo guardare la tua faccia. Dolce fanciulla innamorata o satanica creatura del male? Se appena mi si accostano, io li piglierò a coltellate, taglio la gola a tutti. Sì, tutti, li ammazzo, vedranno, vedranno come li ammazzo tutti. Devo scannarli tutti, tutti. Arlette, due occhi profondi che nascondevano un segreto tremendo e inaccessibile. Arlette, le sue labbra avevano stregato lo sconosciuto venuto dal mare. Il suo corpo aveva conquistato la più scaltra pedina dell'ammilagliato. Il bruciante calore che emanava dalla sua persona faceva scatenare istinti selvaggi e primordiali. E Caterina, una dolce ed enigmatica figura di donna che conosceva e racchiudeva in sé l'agghiacciante mistero di quel luogo maledetto da Dio e dagli uomini. No, non lo fare, no! No, non lo fare, no! Grazie a tutti.